Ciao mondo, Pat che cosa mi combini? Cazzo ti sto guardando in live adesso, devi ripigliarti, ma cosa pensi che tutto sia internet? No, le promesse del cazzo non si mantengono, non può essere una promessa quello che hai detto, io non riesco a capire canali, Instagram, non so esattamente cosa è successo, ti hanno tolto Instagram, non lo so, io ti ho dato più di una volta l'invito di parlare con me caro, però io non posso vederti così, cazzo sei un ragazzo giovane, sei giovane cavolo, io ti sto guardando qua, con sta pelata che ti sei fatto e ci può stare, ma non puoi dire così cacchio, senti Pat, se vedi questo video, e scusate i capelli ma chi se ne frega fa caldo, se vedi questo video, cioè contattami, io voglio parlare a te di face to face, com'è che si dice, perché non posso più sentirti così, io avrei dei consigli da darti, potrei essere tua mamma, mi dispiace tanto, mi dispiace tanto, adesso stacco la live, volevo dirti anche che la scorsa volta io ti ho mandato uno scritto, poi uno scritto molto più lungo, che io non so se tu l'hai letto quello, ma c'era scritto tanto, perché io ho provato a volte a cercare di mandarti dei messaggi perché tu mi chiamassi, non mi chiamassi, mi rispondessi, purtroppo non è avvenuto, però veramente Pat, per favore, non ti si può sentire in questo video, poi ogni giorno cancelli i video che hai fatto, le live che hai fatto, non va così Pat, per favore, se mi leggi scrivimi qua sotto, dopo se vuoi ti posso dare una mano, con la parola, questo è tutto, mi auguro che ascolti il messaggio, ciao Pat.